andiamo a provare questa gigantisca caramella grande quanto le nostre facce che sapore sa? secondo me fragola, frutta, quindi arancia e limone no vabbè l'arcobalino, bello a me non ispira per niente verso la fine, buono, sembra fragola a ciliegia, buono però, verso la fine, poi satisfy no no, buono, dall'odore non era tanto, non ispirava tantissimo però